Ciao, mi chiamo Manuel Liete e sono un cantautore di Milano. Credo che il 15 ottobre sia decisivo essere a Roma per la manifestazione nazionale degli indignati e bisogna esserci in nome di due verbi, partecipare e riprendere, partecipare alle scelte, partecipare alle mosse e ai movimenti e riprendere gli spazi, riprendere ciò che essendo pubblico è nostro, esattamente due cose che da troppo tempo ci siamo dimenticati di fare e tutelare. Ciao!